Buonasera, siamo arrivati a Natale, buoni propositi, bei pensieri e io controcorrente vi parlo della trilogia dei delitti che sta riscuotendo molta attenzione, delitti fuori orario, delitti negati nei sacri sotterranei usciti nella nuova veste di Ianiere Edizioni da pochi giorni e delitti postatati. Sono stati premiati anche ospiti di importanti trasmissioni di Rai 3 e Rai Radio 1 e guardate, sono tre trame autonome che hanno in comune le ambientazioni e la squadra che indaga. Sono disponibili nei circuiti filtrinelli, mondatori, in tutte le librerie del territorio nazionale online e in una grande, grande promozione al sito dell'editore Ianiere Edizioni. Io vi auguro un buon Natale a tutti. Grazie.